Tra poco, non è l'arena, vi faremo ascoltare molti audio di Matteo Messina De Nanno. Ne abbiamo scelto uno, perché è molto particolare. Lui stesso si dipinge come un felino, un uomo che non ama essere guardato all'interno. Fugge. Ascoltate cosa dice. Io in genere sfugo dal farmi conoscere, non con te o con... anche da mia mamma. Io sono così, sono tipo un felino. Sono sempre stato... cioè, con me stesso, più che altro. E quando le persone mi studiano, cercano a me e indovinano. Minchia, mi infastirisco come una perva. Minchia, mi infastamente. Minchia, mi infastanza. Minchia, mi infastanza. Grazie a tutti.